Siamo qua a chiedere quanti percettori di reddito di cittadinanza hanno avuto un'offerta di lavoro, quanti l'hanno accolta e quanti l'hanno rifiutata, per capire se lo strumento funziona o non funziona. Siamo da un anno all'opposizione, quindi all'opposizione cerchiamo di risolvere i problemi. Però l'avete fatto anche voi con il governo, con i 5 Stelle, la legge che comunque portava avanti anche i navigator, adesso non le sembra paradossale. No, vogliamo vedere i risultati di questa legge quali sono. Vogliamo chiedere quanti di questi percettori di reddito hanno avuto un'offerta di lavoro, quanti l'hanno accettata e quanti l'hanno rifiutata per vedere se lo strumento funziona. A chi le urla sciacallo oggi cosa risponde? Ripeto, noi siamo qua a risolvere i problemi e cercare di dare un lavoro agli italiani che il governo lascia senza lavoro. Probabilmente lei dimentica che da quasi un anno la Lega non è più al governo, però le lascio le sue certezze e il suo sorriso.